...che rinizierà l'anno con la sfida al Torino. Abbiamo sentito il portiere Anducca e l'allenatore Maran. ...ancora lunga, però quello che abbiamo messo fino adesso come qualità e come calcio, insomma, come prestazioni, è un bilancio sanzalto positivo. I voti li faccio dare agli altri. Sappiamo che dobbiamo ripartire come abbiamo camminato in questo girone d'andata. Sappiamo che inizia il periodo più difficile perché adesso diventa un campionato diverso, le squadre cambiano, per cui dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e ripartire subito con lo stesso passo. Penso che se parliamo di punti il nostro obiettivo è arrivare oltre i 50 punti, ma per arrivare a quello bisogna correggere qualche piccolezza che abbiamo fatto per non lasciare punti per la strada, come ci è successo già da un paio di partite. Speriamo ora, già sin dalla partita col Torino, iniziare a fare il nostro percorso verso una stagione da incorniciare. Speriamo che sia così. Noi vogliamo arrivare fino in fondo con la Coppa Italia, però è difficile guardare troppo in là. Dobbiamo concentrarsi sulla partita col Torino, che la nostra forza deve partire su quelle partite che sono vicine alla mano, che sono adesso. Quindi dobbiamo concentrarsi su partita dopo partita. Tanti auguri per il 2013. Tanti auguri a tutti, a tutti quelli che guardano sempre Sky, a tutta la gente di Catania. Speriamo regalarci a tutti noi un bel 2013.